ciao a tutti benvenuti in questo nuovo tutorial riguardante l'uso del vocoder all'interno di un arrangiamento prendiamo sempre in esempio lo stesso brano del tutorial precedente di Gianfranco Maudo del prossimo album che sto arrangiando e applicheremo il vocoder ad una frase che sta all'interno dello special del brano per fare questo utilizzerò tal vocoder che è un vocoder free quindi è scaricabile gratis dal sito eccolo qua della tal audio quindi sarà necessario andare sul sito talsoftware.com e scaricare la versione per mac o per pc che troviamo all'interno per applicare il vocoder dovremo fare alcune operazioni non semplicissime per cui cerchiamo di seguirle come sono elencate nel tutorial per prima cosa dovremmo aprire un canale effetti e come questo qui con l'opzione appunto aggiungi effects channel e caricare all'interno il vocoder che vediamo in sovraimpressione nel mio caso avevo bisogno di una voce robotica quindi ho selezionato a voice robot one dal menu a tendina nel mio arrangiamento utilizzo un mix bus principale dove inserisco tutti i canali bus che si chiama mix e dove poi appunto applico nebula e slam do che abbiamo già visto in un altro tutorial come compressore gluing per cui l'uscita del vocoder va direttamente nell'uscita mix che ho creato avremo bisogno ora di un instrument che piloti il triggering del vocoder nel mio caso ho utilizzato silent one eccolo qui della lennar digital uno dei plugin synth più utilizzati in assoluto ultimamente negli arrangiamenti moderni selezioniamolo all'interno del nostro mixer di studio one e pampottiamo tutto il segnale di uscita del silent a sinistra dopodiché inviamolo nella nostra traccia vocoder effects eseguita questa operazione creiamo un altro bus in questo caso lo chiamiamo robot che vediamo qui pampottiamo tutto il segnale a destra e anch'esso lo invieremo all'interno dell'effect channel vocoder queste operazioni sono necessarie perché appunto il vocoder utilizza come vediamo qui nell'input mode il canale sinistro come trigger mentre il canale destro per la modulazione della voce ora non ci resta che inviare la voce all'interno del canale robot che vediamo qui selezioniamo la voce in questione chiudiamo il mixer nel mio caso se è una voce di appoggio quindi è una voce che fa soltanto una frase e dice l'italia il vocoder è pilotato dalla traccia midi ricordiamo che abbiamo già creato qui sotto per silent infatti la traccia midi è assegnata al silent che automaticamente esce e va nel vocoder vi ricordo canale vocoder fx pampottato a sinistra ora la traccia a voce verrà modulata in base alle note che noi troveremo all'interno o scriveremo all'interno dell'arrangiamento sentiamo ora l'effetto della parte midi che incide sulla parola l'italia ora se noi modifichiamo una di queste note ad esempio il risultato sarà questo quindi possiamo modulare la voce attraverso il midi nel mio caso ho utilizzato soltanto questa porzione ma possiamo applicare lo stesso principio a tutta la voce del brano per avere un effetto molto simile a quello che utilizzano i daft punk ad esempio nei loro brani spero che anche questo tutorial sia stato utile vi invito a scrivervi al mio canale youtube per altri tutorial gratuiti su studio one e i plugin correlati ricordatevi sempre di ascoltare i tutorial in cuffia per poter avere un suono più dettagliato di quello che potreste avere attraverso gli altoparlanti o gli speaker del computer o peggio ancora del telefono ciao da ggr studio ciao 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 Grazie a tutti.